Sì, che è una fatica, senza allenamento. No, vado a occhiare, infatti è a Ferrara. Bisogna andare a 65 all'ora. Sì? Sì, va via tranquilli, il Pizzacqua è uno che altro. E vieni su per qua, ma com'è c***o? In mezzo, il gruppo, penso che... Se s'entacin'cana ma 50 all'ora, mi non è una cosa che da e ad un'altra. E' un'altra cosa che è un po' di più. Sì, è un po' di più. Sì, è un po' di più. Un po' di più. Un po' di più. Un po' di più? Sì, un po' di più. Un po' di più. Quanto in il vino? 6 months in the wine? 6 months in the wine, yes but we change in the wine every... really, really if we spent 6 months in the wine this cheese this cheese best cheese, I agree d'accordo, d'accordo where do you came from? America West near Chicago Midwest agriculture and you? here where are you? on the grass ok no no we are here today this house this house is empty then total ok I see you in America 4 possibly yes possibly not your cheese in America yes? no no from China no from China ciao Corrado where do we have to eat? where? where? ok okay right here 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 ーネ va bene va bene